Cinque serate per farsi attraversare dalla poesia, dalla storia, dalla nostra tradizione. E la manifestazione Bitonto, città che leggi, è organizzata anche quest'anno su Via Muro Porta Robustina dall'Associazione Moarte, dall'Istancabile Presidente Damiano Bove con la collaborazione dei suoi soci. Cinque giornate davvero molto speciali. Certo, quest'anno abbiamo cinque eventi particolari. Rientriamo nel contesto della Bitonto città che legge e presentiamo appunto libri, poesie, pittura, musica e tanto altro. Io direi Bitonto città che legge, Bitonto città che scrive, che dipinge, Bitonto città che ama maggiormente. Questo ci dovrei sottolineare in modo particolare. Una città che ama ed è amata anche dai suoi cittadini e da chi viene a visitarla. Questo è l'intento di Moarte, promuovere le arti per favorire turismo e rendere Bitonto una città vivibile per tutti. Quest'anno noi presentiamo, abbiamo degli ospiti di spessore diciamo, quindi inizieremo questa sera 27 martedì con un omaggio a Peppino Moretti con la poesia vernacolare. Avremo la musica della scuola di Tina Carano, Vox Libera, poi avremo tante altre sorprese, abbiamo l'autore Vito Tricarico, abbiamo Marino Pagano che ci parlerà dei suoi borghi, quindi cultura a tutto tondo direi. Si comincia con un omaggio al professor Giuseppe Moretti e a cura del professor Mario Sicolo con il racconto di Vito Tricarico sull'assedio di Bitonto. E ancora con la musica e la poesia di Vincenzo Mastropirro, col suo spettacolo Sudario, con la partecipazione di Giuseppe Fioriello. E poi ancora il giornalista Valentino Losito condurrà gli spettatori nella sua memoria con E la chiamano estate. E la scrittrice Antonella Linsalata presenterà il romanzo Matilde Cerca la Luna. A loro si aggiunge il 30 agosto anche Angela Agnello con Fra le crepe dell'anima, Maria Di Battista con percezioni poetiche e Carmen Rucci con Domizia va in Giappone. Si conclude la rassegna il 31 agosto con il gran galà della poesia. Le serate saranno allietate dagli interventi musicali a cura dell'associazione Vox Libera e dell'Accademia Modugno. Grazie per la visione!